ciao buonasera a tutti sono raffaele questo è tecnica antica bene questo video è un po' strano qualche giorno fa il signore giuvarra apparentemente un conosciuto accademico maestro di canto italiano che lo conoscono a casa sua a pranzo a cena magari non lo conoscono ha pubblicato un articolo in cui mi insultava e mi chiamava pazzo perché io in questo video affermava che le vocali a livello di fonazione questo è molto importante si formavano principalmente nella faringe poiché questa questa la faringe è il principale risonatore ebbene quest'idea non è originalmente mia ovviamente infatto io l'avevo sentita da altri insegnanti anche dal dallo stesso signore giuvarra per dimostrarvi vi lascio l'audio di una delle sue masterclass in cui afferma che i cantanti i cantanti contemporanei che cantano unicamente con la loro bocca perdono molta risonanza cioè perché la faringe è la principale camera diciamo di risonanza quindi qua comincia un po diciamo la controversia chiaro che non si risolve in questo modo stessa cosa si si abbasso direttamente la legge quindi allora torniamo al discorso di prima lo spazio di risonanza globale è di camerale bocca e gola quindi il concetto di suono aperto si riferisce all'uso della cavità della bocca il di coperto all'uso della cavità della bocca nessuno dei due deve prevalere sull'altro io dico così in maniera approssimativa che i cantanti moderni tendono a usare ovviamente esagerando la cavità della bocca che ne so chiaramente è una caricatura perché è un'imitazione ma sostanzialmente questo cioè condiviso un'idea che ci accomuna e l'ho sviluppata affermando che oltre a questo se cantiamo unicamente con la bocca perdiamo il contatto con l'appoggio ok ebbene quest'uomo che già in numerose occasioni ha attaccato la figura del maestro melocchi e di tutti quelli noi che insegniamo il metodo di melocchi o metodi simili sembra essere fatto giustizia con le proprie mani ed ha provveduto ad insultarmi nel modo più rozzo e irrespetuoso che mai potrei immaginare veramente c'è stato molto molto triste inizialmente il video sarebbe stato in inglese dato che il video che criticavo in realtà è un video in lingua inglese ma ho preferito farlo in italiano e perciò che un piccolo script qua anche se è molto difficile per me altro che non è la mia lingua madre è il linguaggio linguaggio diciamo veicolare ma l'italiano lo parlo credo di non parlarlo molto male e credo che la pronuncia magari è un po meglio di quella dal signore giuvarra se non sentite questa masterclass penso che all'avversario in questo caso bisogna contrattaccare con gli stessi mezzi quindi perciò che lo faccio in italiano e come dico vi lascio questi frammenti dai masterclass di questo personaggio oltre ad alcuni audio registrati da fra virgolette da questo cantante insegnante che veramente penso non sia così bravo una carrozza presto seguila dovunque vada non visto provvedi ma l'alazzo farinese ma tosca Nel tuo cuore salì da scarpia A Tosca Scusa, ma l'opinione è l'opinione non insulto nessuno, è un'opinione non era la prima volta che questo signore mi contattava ma quando mi è scritto, credo che era lo state cercando per la prima volta di correggere alcuni dati storici sollecitando in modo... lui mi diceva che vi piaceva il modo in cui io divulgava la tecnica vocale secondo al metodo di Melocchi, ma lui diceva che quello non era Melocchi che Melocchi era un furbo, eccetera e io l'ho risposto veramente con molta gentilezza e non so perché questo video devi averlo irritato molto e invece di criticarmi in privato che secondo me sarebbe la maniera più elegante ha lasciato contro di me un'offensiva che ovviamente non tolero non tolero perché l'onore è un valore che bisogna difenderlo e una volta in più trovo estrematamente triste che nella comunità lirica ci siano personaggi come questo signore che non vogliono fare altro che sminuire ed insultare persone che come io che sono semplicemente un umile professore di canto e che in nessun momento affirmiamo di essere in possesso della verità universale nel suo articolo il signor Giuvarra parla di me come non so parla come contraddico i principi universali dell'enunziazione della pronuncia quando davvero in questo video short in nessun momento ho fatto riferimento a questi non so come dire a questi principi non ho parlato della pronuncia per nulla ho parlato unicamente della fonazione il mio video parlava effettivamente dell'influenza delle vocali a livello di fonazione che secondo me e secondo tanti altri si formano principalmente nella faringe e poi nella bocca quindi con questo video non solo si è fatto dei nemici diciamo che ne ha tantissimi ma come dicono gli anglosassoni si è adatto la zappa sui piedi sai io mi ricordo che già il maestro Fulio Massa e Carlo Colombara da qui un grande affettuoso saluto mi avevano parlato di questo personaggio è vero che quando ho ricevuto questa email lo state mi sembrava un po' arrogante diciamo ma mai avrevo pensato che un attacco così sarebbe sarebbe stato beh su Facebook non so quanti persone quest'oggi cercano queste cose su Facebook ma io gli ho risposto un messaggio il mio messaggio privato che vi farò un video spiegando un pochettino che cosa volevo dire con questo video e poi una difesa dal mio diciamo dal mio onore se qualcuno mi insulta spiegami perché ma direttamente farlo così pubblico bene noi nella scuola nel nel metodo di Melocchi siamo grandi non diciamo fanatici ma siamo molto predisposti ad utilizzare la vocale U la U perché secondo noi la U abbassa la gola e poi la resta delle vocali dovevano avere per forza è questa basse di U perché se no la gola si alza la laringe ok la laringe si alza e tutto si ferma e poi la pronuncia quando si canta a livello faringeo è più chiara se uno sente Mario del Monaco se uno sente tutti gli studenti di Marcello del Monaco la pronuncia è bellissima e la la voce è meravigliosa la laringe è sempre bassa quindi magari non è universalmente giusto che io dica che le vocali si formano unicamente in faringe che non l'ho mai detto ma se io faccio una scala questi vocali non le stanno facendo con la bocca unicamente le sto facendo le sto facendo con in faringe mantenendo questa posizione bassa in in laringe capito di qui a criticare la pronuncia non so cosa in più dice perché appena ho letto un pochettino dal suo articolo che veramente mi pare molto triste c'è un lungo spazio ok c'è una lunghezza enorme quindi fino qua il video in cui cerco di difendermi da questo attacco da questa persona che veramente magari bisogna fare un po' di lavoro interiore prima di cominciare a insultare a tutti quanti ok beh questi video questo video davvero non mi fa tanto piacere da farlo a me mi piace fare dei video divertenti in cui magari posso aiutare qualcuno ma l'internet è pieno di troll capisco ma questo troll è veramente un troll molto celebre quindi di qua signore Giuvarra per piacere e beh non voglio dire delle bestemmie delle cose brutte ma lascia stare ok arrivederci ci vedremo in un altro video un po' più divertente ciao